Ciao ragazze, eccomi qui di nuovo, dopo tanto finalmente sono riuscita a fare un nuovo video e diciamo che ho avuto un pochino di problemi sia con il tempo per fare i video e anche per il fatto che ho dovuto cambiare la postazione make up, non so se dietro c'è la tenda quindi sì, perché comunque ho cercato di trovare un posticino più riservato questo video di oggi è un tutorial, però voglio prima parlarvi su cosa si basa questo tutorial allora, tempo fa ho partecipato a un concorso dove dovevo fare un trucco ispirato ai colori dell'amore infatti il tema era Colors of Love ed era stato creato da Flomar Italia che è un'azienda di cosmetici il quale ha dei prodotti veramente molto belli questo concorso venivano decretate tre vincitrici io ho fatto prima, ringrazio ancora Flomar per avermi scelto, aver scelto il mio trucco sono veramente contentissima quando si tratta di temi molto particolari io partecipo poi vabbè, c'erano anche dei bellissimi premi in palio e quindi penso che tutte avrebbero voluto il primo posto quindi adesso vi faccio vedere i prodotti, cioè il premio che mi è arrivato prima che le vincitrici venissero decretate quindi ancora durante il corso del concorso Flomar ha fatto una piccola proposta dicendo che se la vincitrice era disposta a fare un videotutorial quindi un trucco con i loro prodotti io ovviamente ho subito accettato e infatti eccomi qui per fare questo videotutorial mi scuso con Flomar perché è passato veramente tanto tempo dove avevo promesso di fare questo video quindi adesso vi faccio vedere velocemente i premi che mi sono arrivati e poi passiamo al vene giucco ho comprata questa scatola bellissima veramente stupenda così questa scatola conteneva i premi e adesso ve li mostro mi è arrivato il fondotinta questo qui è il numero 302 il golden sand e purtroppo l'ho provato è l'unica cosa che per la mia pelle è troppo scuro però lo reputo veramente un buon fondotinta copre veramente le imperfezioni non è diciamo rende la pelle molto grassa mi è arrivato la terracotta powder questa qui così e vi faccio vedere ha lo specchietto anche ed è veramente stupendo ha questo collo mix di colori numero 22 la compact powder sempre a scatolina così specchietto specchietto cibria questa qui è la numero 91 poi mi è arrivato anche questo qui che è il diamond terracotta al shadow questo qui è il numero D04 così questo qui si può usare benissimo da terracotta e ombretto ha questi lucichini veramente stupendi poi ombretto mono ed è anche matte questo qui è il numero M04 e questo qui è il colore di 5 ombretti stupendi sono tutti 5 shimmer questa qui quindi è la è la color palette eye shadow numero 03 questo qui sono i colori bellissimi poi questo pennello che può essere sia da può essere sia da blush che per la citria infatti è bellissimo adesso faremo morbidissime poi mascara questo qui è il turbo bost ed è anche waterproof questo qui è veramente buono mi ci trovo veramente con questo qui mi ci trovo benissimo mi lascia le ciglia molto lunghe e mi dura cioè non se ne va per niente il mascara rimane lì intatto e non quindi anche se piove rimane poi eyeliner con i glitter questo qui dovrebbe essere il 307 si eccolo ed ha tutti questi glitterini sull'illa bellissimo poi eyeliner sempre questo qua è il diamonds eyeliner questo qui è il numero 108 anche questo sul viola molto bello poi questa qui è la matita diciamo matita eyeliner e ha i glitter ha i glitter sul marroncino la matita è sul marroncino però ha i glitter dorati ed è veramente bellissima questa qui dovrebbe essere la numero 505 dov'è? ecco 505 poi matita labbra questa qui è la waterproof lip liner è un rosso viola ed è la numero 217 c'è il rossetto che è il numero 206 ed è un rosso molto molto bello intensissimo diciamo che è il rosso che piace a me poi anche un altro rossetto questo qui è sempre della linea anzi questo qui è della linea long wearing ed è il numero L15 questo qui è favoloso come colore è un color ciliegia amarena io amo troppo questi colori scuri sul viola sulla ciliegia ovviamente stupendi poi mi è arrivato il gloss sempre della linea long wearing questo qui è il numero L405 e se guardate bene è stralucicoso come potete vedere quello che indosso ora quindi questo è tutto credo di non aver dimenticato niente vi lascio al tutorial spero che vi piaccia e piaccia anche alla Flomar se mi fate sapere con un commentino qui sotto sarei davvero piata quindi un bacio a tutte e buon tutorial allora ragazze per prima cosa vado ad applicare sull'occhio una matita bianca così e voi potete usare benissimo qualsiasi matita bianca io adesso uso questa qui ma è mignon e andiamo a applicarlo solamente sulla palpebra mobile è leggermente un po' qui e adesso vado a prendere un ombretto della Flomar è un lilla ma questo qua cioè è un lilla ma sulla videocamera risulta un blu blu celestino e questo qui è il matte mono eyeshadow e lo vado ad applicare sulla palpebra mobile ma inizio diciamo lascio un pochino lo spazio bianco all'inizio dell'occhio adesso con un pennellino da sfumatura infatti ha le setole abbastanza morbide dalla palettina questa qui sempre di Flomar ha questi bellissimi 5 ombretti tutti shimmer e questa qui è la color palette eyeshadow vedo se si legge questa qui è la numero 03 vado a picchettare questo blu e lo vado ad applicare diciamo alla fine dell'occhio e lo porto nella piega quindi andiamo piano piano a sfumare poi prendo questo pennello da metà sfumatura però ha le setole diciamo un po' più compatte e vado a sfumare il blu riapplico e riapplico la matita bianca e la mettiamo all'inizio dell'occhio e andiamo leggermente a sfumare poi poi applico la matita bianca anche sotto l'occhio all'occhio e applicare l'eyeliner questo questo qui è l'eyeliner sempre della flomar come sapete già come detto in precedenza utilizzo solamente prodotti flomar per questo video e quindi questo è l'eyeliner ed è un lilla e questo qui è il il diamonds eyeliner e diamonds eyeliner poi all'interno dell'occhio vado ad applicare la matita bianca per completare il look vado ad applicare le ciglia finte per finire vado ad applicare il mascara della Flomar questo qui che è il Turbo Bost ed è il mascara waterproof e lo andiamo ad applicare leggermente sulle ciglia finte e sotto questo è il look finito per gli occhi ed ora passiamo a quello del viso allora ragazze, ho fatto già la mia base sul viso ma non ho potuto utilizzare il fondotinta della Flomar perché per me è molto molto scuro e quindi avrei fatto carnevale quindi ho dovuto optare per il fondotinta che uso sempre però passiamo ora alle guance per le guance ho scelto questo qui sempre della Flomar che è il Diamonds Terracotta Eyeshadow e infatti se vedete bene se dalla videocamera si apprezzi si dovrebbero vedere dei piccoli luccichini comunque è veramente stupendo e applico un po' di questo qui sulle guance per le labbra invece vado ad applicare il Long Wearing questo qui sempre di Flomar e questo qui deve essere il numero L405 questo è il look finito spero vi sia piaciuto un bacio grazie a tutti 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 grazie a tutti